Tu dà un'occhiata in giro, anche se non compri nulla. La storia è infinita. Capirai con il tempo. Atreiu! Sono il professor Blanc. Bastia. La giovane imperatrice era al cuore del regno di fantasia ed era molto malata. La sua unica speranza era nelle mani di quel ragazzo. L'unico modo per salvare il regno di fantasia è fermare il nulla. Odio questo libro! Allora potevi prendere un libro normale. La vita dell'imperatrice di fantasia si misura in nomi. Non avvicinatevi. Che fine ha fatto il tuo eroe, sorellina? Potete indicarci qual è la strada per l'oracolo del sud? Sta seguendo il suo destino. È un bambino. Atreiu. Il fortuna drago è costruito in modo che sembri Falcor. Così qualcuno pensa che sia lui. Da quando questa donna è tuo socio in affari? Va Falcor, sei libero! Devo... Avere... Quel... Libero. Oh no!